eccoci qua benvenuti secondo incontro sull'inflazione finché sarà un tema lo manterremo siamo ancora con riccardo trezzi che ci raggiunge da casa sua credo sia tornato all'italia dato sono in italia da cremona lucio che è a casa sua comunque non c'è tornato ci stava pure prima a roma no milano milano io chissà perché ti ho piazzato a roma milano e io grazie dell'invito naturalmente e grazie dell'invito ah beh ormai siamo anzi tu ricorda che ti abbiamo detto che se vuoi farti il programma in cui ci aggiorni noi impariamo allora benvenuti ripartiamo chi interessato ai dati vecchi si vada a vedere la puntata precedente la trovate su questo canale circa un mese fa sul giorno esatto me lo ricordo se voi cercate inflazione trovate poi nella stessa playlist a marchetta pubblicitaria visto che né riccardo né lucio ha detto no no fai tu fai tu ricordatevi che è nata e ha dato i vagiti l'associazione liberi oltre illusioni che è un'associazione culturale che vuole fondamentalmente dare una mano a questa impresa disperata di fare un po di formazione tecnica e seria in rete utilizzando strumenti social youtube facebook instagram eccetera non c'è nessun lucro personale le piccole quote dell'associazione che sono 20 euro o quello che vorrete donare di più se volete donare di più siete benvenuti riceverete oltre i 100 ricevete una meravigliosa maschera in dono liberi oltre anti covid molto bella molto elegante ottimo regalo natalizio se fate presto e se andate al sito web che trovate rapidamente con liberi oltre illusioni punto it vedete tutto non fatevi confondere dal fatto che all'inizio del pagamento c'è la pubblicità che sembra che possiate utilizzare solo un certo tipo di carta e potete usare tutto quello che vuole non basta nient'altro non sono molto bravo a fare pubblicità io ma insomma iscrivetevi iscrivetevi fatto bene fatto bene assoluto va bene allora detto questo la parola al nostro tecnico io lucio facciamo i commenti la parola a riccardo esatto tu dovresti abilitare la condivisione dello schermo perché non è abilitata in questo momento in frattempo possiamo dire che dovresti vedere la presentazione giusto si vede sì sì si vede ok perfetto che questa è il titolo quindi è la seconda parte potete andare a vedere per chi non ha visto la prima parte questo è il menù di quello che presenteremo oggi ci sono molte slide interrompetemi mi raccomando che sia un dibattito come abbiamo fatto la volta scorsa quindi faremo un piccolo apetito di quello che sta succedendo negli stati uniti e secondo me la cosa determinante sarà vedere quali sono le cause che oggi secondo me sono diventate molto chiare della dell'attuale chiamata inflativa e poi vedremo cosa succede nell'area euro e perché tutto sommato nell'area euro le cose sono molto diverse al momento e infine vedremo qualche slide sull'italia io per metterti subito in difficoltà ti do l'update del commerciante l'update del commerciante allora noi stiamo da un paio di settimane riuscendo a muovere i listini di vendita mentre all'inizio c'era molta e molta dischiosità no come in tutte le fasi in cui ti cresce il prezzo della materia prima non riesce a scaricarlo sui clienti da un paio di settimane ce la stiamo facendo quindi no allora quanto quando meno di quando dico che le cose sono diverse nell'area euro io mi baso esclusivamente sui dati pubblicati fino ad ora poi parliamo di previsione d'accordo però fino ad oggi le cose sono andate in modo molto diverso e tentiamo di capire il perché poi da lì in poi effettivamente poi ti farò vedere che anche per quanto riguarda l'italia ci sono un paio di segnali che sono simili alle cose che abbiamo visto negli stati uniti quindi quello che mi stai dicendo non non è del tutto nuovo però come prima cosa parliamo dei dati che sono pubblicati più che delle quello che sta per succedere ok allora è la prima cosa da dire che dati di ottobre molto robusti decisamente sopra le attese d'accordo non è bello dire nella vita l'avevo detto perché io non faccio questo di lavoro soprattutto non faccio soldi non faccio trading del prossimo cpi release però gli ingredienti per avere un ulteriore diciamo accelerazione c'erano tutti ed effettivamente questo mio tweet del 19 di ottobre quindi quasi un mese prima che venissero pubblicati i dati di ottobre che vengono pubblicati sempre un mese dopo e io dicevo che secondo me la parte core del cpi sarebbe risultata decisamente superiore allo 04 poi siamo andati addirittura 0 6 che annualizzato vuol dire qualche cosa come il 7 per cento quindi era molto robusto però non era era diciamo nell'aria ok questo è un grafico che avevamo fatto vedere la volta scorsa e sono le variazioni mensili del deflatore del consumo privato che è quello è il target della fed e qui il claim la volta scorso ovviamente tra quello di dire ha seguito un po le ondate del del covid se ricordate eh inflazione negativa poi la prima ondata decelerazione rispetto alle chiusure nuova ondata la decelerazione per per le nuove chiusure diciamo dell'inverno passato nuova ondata decelerazione e oggi abbiamo un incremento nel nel dato di ottobre d'accordo allora questo è un campanello di allarme per molti perché ci si domanda da cosa succederà da adesso cioè eh torneremo ad avere diciamo questo andamento decrescente andando in avanti oppure questo è l'inizio di una sorta di spirale che ci porterà ad avere eh readings sempre più più grandi o quantomeno comunque i readings robusti secondo me se volete la mia previsione e poi vediamo il perché eh fondamentalmente un po nessuna delle due cioè avremo probabilmente una cosa nel mezzo ovvero come dicevo nel mio tweet sempre di ottobre eh per ragioni mh verso le quali oramai non ci si può fare più nulla perché come al solito l'inflazione nei prossimi due tre o quattro mesi è già presettata eh però avremo probabilmente dei reading eh piuttosto robusti se volete una mia previsione per quanto riguarda il fattore del 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 consumo privato cioè questo PCI negli Stati Uniti probabilmente continueremo ad avere dei reading attorno al punto tre o punto quattro che è comunque un'inflazione piuttosto robusta ok l'intera discussione oggi è non è sui prossimi tre o quattro mesi ma è su quello che succederà dopo questi tre o quattro mesi ok allora eh questo era un altro grafico che vi ho fatto vedere la volta scorsa e eh quello che vedete qua sono diciamo eh sono i contributi all'inflazione eh sempre parlando del 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 PCI quindi del del fattore del consumo privato che è il target della Fed oggi siamo al quattro virgola uno per cento quindi un eh reading molto elevato e qui il claim naturalmente era di vedere come sarebbe andata l'evoluzione delle barre verdi rispetto alle barre blu perché le barre verdi erano la parte che non era sensibile al covid ok prendevamo come una sorta di controfattuale e le parti le barre blu invece erano la parte sensibile al covid e ehm questa è una mia stima di come andranno le cose quando eh Matt Shapiro le pubblicherà nei prossimi giorni eh le le barre verdi hanno iniziato a muoversi un pochino ma hanno iniziato a muoversi e questo perché perché il surriscaldamento dei dati eh dell'inflazione non è più diciamo eh una questione di pochi item ok come era all'inizio ma abbiamo assistito diciamo ad un allargamento del numero di item che ehm registrano variazioni eh di inflazione piuttosto robuste non siamo ancora nel panico d'accordo perché come vedete l'andamento delle barre verdi non è esploso o non sta esplodendo però non è neanche più così moderato ok eh questo è un regalo che vi faccio questo modello che io mantengo e spero che i miei clienti non si arrabbino troppo ehm questo è eh diciamo un modello che identifica quanta parte della variazione mensile eh dell'inflazione è dovuta all'effetto covid ci sono le barre verdi che vedete qui quanta parte è dovuta ad un effetto comune cioè quella parte di inflazione che può essere spiegata con movimenti di tutti eh gli item che compongono core inflation ok quindi lo possiamo prendere come una sorta di trend dell'inflazione e quanta parte invece è spiegata da shock che sono cosiddetti idiosincratici cioè sono specifici ad ognuno degli item che compongono eh il l'indice quello che dovreste notare è che se noi prendiamo la parte comune questa parte common ok che ripeto possiamo prendere come una sorta di trend dell'inflazione e andiamo a vedere le variazioni annuali year over year cioè la linea blu di questo grafico eh quello che vediamo è che c'è eh è stato un deciso eh aumento e che oggi diciamo questa parte queste variazioni annuali della parte ripeto più persistente più comune a tutti gli item indipendentemente dall'effetto covid lasciate stare su come il modello lo identifica non perché sia segreto ma perché non credo che sia questo il punto comunque sia oggi siamo eh intorno cioè siamo decisamente sopra target e siamo intorno al due tre due due eh di inflazione questo è importante perché la parte comune dell'inflazione cioè questa parte di trend è tipicamente la parte che per ripeto siccome è la più persistente tenderà a persistere anche nei prossimi sei mesi nove mesi e probabilmente anche un anno ok quindi vedete che il covid ha sicuramente avuto un effetto ma siamo già tornati sopra il livello pre covid e stiamo anche aumentando d'accordo? questo è ancora più chiaro come grafico secondo me mi fa vedere molto bene questo è se si prende quanto meno questo è il CPI però lo stesso discorso ovviamente vale per il defattore del del consumo privato se si prende la mediana della distribuzione cioè di tutti gli item che compongono il paniere annualizzato ok cambio mensile annualizzato se si prende la mediana quindi non è influenzata da quello che succede nelle code e si prende la media mobile a 12 mesi di questa mediana vedete che questa mediana lo meno questo indice la media mobile a 12 mesi e oggi al 2 7 circa quindi è uno dei più alti readings degli ultimi 25 anni se si esclude probabilmente qualche mese prima della grande recessione ok tutto questo per dire che cosa per dire che i numeri che abbiamo visto negli ultimi mesi non sono più una questione di pochi items concentrati per esempio nelle auto usate ormai il processo di inflazione coinvolge un numero di settori e un numero di beni che non è più marginale ok questo ce lo dicono le distribuzioni ce lo dicono i dati non siamo ancora in panico secondo me posso interrompere la volta presente avevi mostrato un po delle distribuzioni in queste classificazioni fra ciò che non poteva e questa è la prima domanda se c'è in realtà mi rendo conto sono tre la seconda è sì la salita molto rapida ma come questo grafico stesso mostrano queste misure questa mediana fa spesso così e se uno guarda il decennio da cui arriviamo beh è un decennio particolarmente basso è anomalo quindi insomma se io colo confronto a quello che successe nel 2006 circa non ho anche nel 2000 dopo la recessione no c'è no se noti tra l'altro sono tutte fasi post recessione ma non è quello la terza cosa che volevo chiedere questa più tecnica è visto che l'impulso viene da questi beni esposti come abbiamo detto suscettibili o sensibile qualcuno ha provato a fare un giochetto in pur output di trasmissione che mi capisce al volo sì sì no ti capisco non che io abbia visto al momento non che io abbia visto no io non ho il tempo di farlo ma non ho neanche visto è abbastanza complicato o uno c'è già un modello costruito di sì sì no esatto certo ovviamente no allora la narrative su sui settori è rimasta esattamente quella il problema è che quindi quello che siamo detti la volta scorsa sui beni durevoli è rimasto tale sul riscaldamento per esempio del della parte dei servizi che al momento non osserviamo quantomeno non serviamo solamente una parte per esempio la parte di housing cioè gli affitti e sappiamo che questa parte si sta surriscaldando e nei prossimi tre o quattro mesi continuerà a surriscaldarsi non possiamo più farci nulla al riguardo è ancora tutto valido e se io vi avessi fatto vedere esattamente questi grafici il mese scorso avremmo parlato di cose molto simili perché non sono cambiati così tanto quello che è il campanello diciamo d'allarme in tutto questo se vogliamo vedere è che sì la salita è molto rapida ed è successo altre volte però qui la politica monetaria non sta reagendo come reagiva altre volte il tono devo dire che nelle ultime due tre settimane è cambiato e i mercati hanno già iniziato a apprezzare circa due hikes e mezzo nel 2022 e alcuni degli fomc members hanno già iniziato a dire che il tapering può essere più rapido di quanto annunciato a dicembre ovviamente io credo che sia stato un errore annunciare un tapering così lento così come credo che sia stato un errore non annunciare il tapering già a settembre però la narrative che poi dopo vedremo Michele è rimasta la stessa ok però se posso se posso permettermi c'è un qualcosa di cui non avevamo parlato la volta scorsa o solo diciamo così a voce ma senza far vedere alcuni grafici che secondo me sono fondamentali idee quali sono esattamente le cause se noi pensiamo ad un grafico banalissimo one on one di micro tra domande offerta e quali sono le cause dell'inflazione negli stati uniti perché non abbiamo osservato la stessa cosa nella zona euro questa è la seconda parte della mia presentazione allora questo è esattamente lo stesso grafico che vi ho fatto vedere prima di Matt Shapiro però lui non solo ha identificato quali sono i sensitive items e gli items che non sono insensitive ma tra gli items che sono sensitive ok al covid ha identificato quelli che sono sensitive e hanno un comportamento trainato da uno shock di domanda in qualche modo e quelli che sono trainati più che altro dalla parte di offerta come ha fatto a farlo perché l'idea è che se è uno shock di domanda i prezzi e le quantità devono muoversi verso l'alto se è uno shock di offerta le quantità devono muoversi al ribasso mentre i prezzi devono muoversi al rialzo ok questo è io sto riferendo a quello che sì no lo so faccio solo osservare che c'è questa vecchia pessima abitudine che viene dal cosiddetto VAR vector autoregression identificare le cose facendo finta che tutto si muove una volta sola e se si muovono tutte e due eh no no certo certo ma infatti se tu guardi c'è anche una parte c'è anche una parte di items che sono ambigui e sono parecchi ovviamente detto questo però la cosa secondo me più interessante che poi dovremmo anche di cui sulle mie prossime slide è che facendo questo esercizio che ripeto come tu dici a grosse limitazioni però la parte che balza all'occhio secondo me sono queste barre blu ok e della parte un po più tra in alta dalla domanda ora perché dico questo perché l'intero dibattito negli stati uniti e riguarda diciamo ehm secondo me quella parte più interessante qual è stato diciamo l'effetto se c'è stato un effetto sull'inflazione della parte di stimoli allora se si guarda in aggregato ok la domanda dei consumatori americani quindi la parte di consumo di c nel nel pil americano è questa è questo grafico e come vedete diciamo la parte in aggregato è rimasta e oggi molto vicina al trend pre covid ok quindi c'è stato un gigantesco drop e poi un'espansione a livello a ritmi diciamo elevatissimi che oggi ci ha riportato fondamentalmente sul trend pre covid ok quindi se uno guarda solo questa parte qua ok non riesce a capire diciamo perché abbiamo avuto inflazione perché questo grafico suggerirebbe che ovviamente c'è stata una grossa diminuzione in aggregato della domanda ok seguita poi diciamo da un recupero se però guardiamo a diciamo la divisione cosa è successo è statamente la stessa linea dividendo tra la parte dei beni e la parte dei servizi la parte di beni e la parte blu e la parte dei servizi la parte rossa vediamo che quando è arrivato il covid entrambe diciamo la parte di spesa dei consumatori americani sono cadute e poi però i servizi ancora oggi rimangono molto distanti da quello che sarebbe il loro livello diciamo sul trend pre covid ok mentre la parte di beni tutti i beni tra l'altro non solo i beni durevoli ma anche i beni non durevoli rimangono molto al di sopra della del trend pre covid ok qua secondo me se uno c'è in mente un modello nel quale i prezzi sono downwardly no money rigid cioè non possono calare questo spiega molto bene perché abbiamo avuto dinamiche inflattive molto forti nella parte dei beni e molto meno forti nella parte dei servizi perché lì i prezzi non potevano calare mentre è avuto uno shock di domanda ok molto forte nella parte dei beni la spesa si è focalizzata disproporzionatamente su alcuni item in questo caso ovviamente sulla parte dei beni a danno a discapito dalla parte dei servizi e quindi in aggregato tu non hai avuto diciamo un consumo che è esploso in aggregato un consumo che ha recuperato ma un consumo che si è focalizzato tantissimo su alcuni beni e quindi l'offerta non ha potuto reagire e quindi il mercato si è si è clear si è regolato aumentando i prezzi ok ci ha messo un po è perché il primo mese in cui abbiamo iniziato ad avere dinamiche inflattive molto elevate è il mese di credo fosse maggio adesso dobbiamo andare a vedere però è il mese che ho indicato qui con questa freccettina verde quindi tutta questa parte diciamo di salita e di spesa elevatissima non ha generato inflazione probabilmente perché stavano ancora diciamo utilizzando le scorte poi ad un certo punto anche quando le scorte sono finite e l'offerta non ha potuto adeguarsi quantomeno non così rapidamente hanno iniziato ad aumentare molto i prezzi ok ora per quanto riguarda l'offerta c'è da fare un chiarire una un aspetto che secondo me è cruciale e questo è un tweet di di jason che quando ho visto ho letto ah e questo è esattamente quello che ci serviva perché è un summary molto chiaro generalmente quando si parla di problemi dell'offerta guardando anche a questo grafico diciamo si 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 indicano due cose diverse ok il primo a dire che ci sono stati problemi dell'offerta perché il covid mi chiede correggimi se sbaglio se non sei d'accordo è stato essenzialmente un negative supply shock cioè uno uno shock di offerta negativo non solo ok ma quindi che cosa vuol dire questa cosa che l'offerta però quantomeno per un certo periodo di tempo in alcuni settori si è contratta ok abbiamo dovuto chiudere le fabbriche e questo è quello che viene indicato dalle persone con supply disruptions or supply chain disruptions in qualche modo ok quindi un'offerta che si è ridotta e quindi dal punto di vista grafico del 101 di micro 101 hai un un'offerta che si sposta a sinistra quindi in questo caso diciamo calano le quantità statico e one off calano le quantità e calano i prezzi l'altro però è il secondo effetto che è dettato dal fatto che oltre ad aver avuto un una diminuzione dell'offerta in questo periodo perché le fabbriche erano chiuse e poi ci sono stati un sacco di altre disruptions poi l'offerta nel breve quantomeno nel breve periodo sappiamo che è quasi fissa e quindi la seconda parte quando le persone parlano di problemi di offerta intendono dire che l'offerta non riesce quindi non è non è responsivo non riesce non riesce ad adattarsi sufficientemente al credo che adesso non so cosa ne pensi lucio ma insomma a me sembra che entrambe le cose sono successe ed è successo anche l'effetto domanda perché poi alcuni effetti domanda sono di anticipazione tutte le persone che io conoscevo che avevano fatta percezione per due o tre che guarda caso facevano roba molto di lusso ma che facevano parte dei servizi a cui è stato detto state chiusi non hanno detto solo adesso io non vendo più questo e quello anche detto orca e io fra sei mesi soldi dove ritrovo quindi c'è stato anche un calo di domanda da un lato e poi un ritorno dall'altro se devo descrivere intuitivamente non lo so cosa pensa appunto lucio che da quanto leggo da quando il quadrante inferiore è la situazione oggi il quadrante inferiore la situazione un anno fa esattamente esattamente sì sì diciamo che per l'appunto è una parte del perché la gente ancora oggi non riesce a spendere o non può spendere nella parte di servizi è dettata per l'appunto dal fatto che stiamo ancora parlando di disruption però è più che di non responsiveness però è esattamente andata così cioè all'inizio hai avuto una contrazione dell'offerta e una contrazione della domanda poi la domanda ha iniziato a tornare ed è stata una domanda fortissima concentrata molto ripeto questo è cruciale solo in alcuni beni e oggi noi abbiamo una domanda una un'offerta che tenta in qualche modo di rispondere a questa domanda molto forte però ci sono dei problemi logistici sono i problemi dei trasporti mancano gli autisti mancano manca il personale ai porti non si possono fare i miracoli per trasportare le merci eccetera 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 ok però questo è importante secondo me capirlo perché quando si parla i problemi della domanda e problemi dell'offerta generalmente si indicano cose diverse che sono successi in momenti diversi ok l'altro problema di cui abbiamo accennato la volta scorsa è che oltre ai problemi diciamo di di offerta che ha problemi diciamo a produrre di più perché mancano le materie prime o perché le materie prime costano molto di più oppure perché ci sono problemi di trasporto problemi nei porti eccetera c'è stato anche un problema e c'è un problema sul mercato del lavoro e c'è un problema sul mercato del lavoro perché ci sono diversi effetti che sono successi il primo è che già era in atto prima del covid e poi dopo il covid ancora di più mancano lavoratori per esempio dal punto di vista dell'immigrazione negli stati uniti ok ha vinto trump non so se una vittoria o meno ma ha vinto trump cioè biden c'era anche oggi ormai la gente anche a sinistra nella quesetta sinistra dice questo qua sta facendo la stessa politica dell'immigrazione che faceva tram tale quale anzi peggio peggio perché non è cambiato molto fintamente insomma cioè sì sì ma su questo è il caso anche di dirlo non so cosa ne pensi di nuovo lucio ma insomma la ragione per cui lo fa sia chiaro ha uno un solo nome e sono i sindacati sì credo di sì sì credo di sì se vuoi i voti dei grandi sindacati organizzati americani oggi tu impedisci alla gente di venire a lavorare negli stati uniti perché questo gli permette di sfruttare per un breve periodo questa situazione fa crescere i salari l'effetto potrebbe essere orrendo per la crescita ma questa è la situazione esatto questo e poi credo che questa cosa si sposi anche con la dinamica dei servizi che c'era prima perché sì infatti vediamo la dinamica salariare dei servizi sì è anche più labor intensive quindi se tu hai un problema di risorse umane inevitabilmente insomma si frena un po' tutto e credo che anche il 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 tema dei servizi si è anche afflitto questo volevo dire prima dal fatto che la regolamentazione anti covid perlomeno almeno in europa è così non sono negli stati uniti ancora frena molti servizi cioè molti servizi non si possono ancora vendere in maniera in maniera efficiente non si può non si può erogarli in maniera normale efficiente economicamente sostenibile quindi questo anche forse e della domanda di fatto è è limitata anche di quel genere di di diciamo dei servizi mentre sui beni questa cosa con improbabilità non 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 si non si verifica si verifica meno insomma ecco non è così ancora così impattante si condivido e non solo ma poi per quanto riguarda gli stati uniti diciamo che una cosa di cui avevamo parlato ho trovato una analisi non so se questo counterfactual questo contropattuale è affidabilissimo però l'evidenza di diverse analisi ha messo in luce che non c'è solo un problema diciamo di migrazione un problema anche di persone che sono andati in early retirement quindi si sono tolte dal mercato del lavoro prima del dovuto ripeto questo stima dell'uno per cento della popolazione è probabilmente esagerato ma anche se fosse diciamo la metà mezzo per cento è comunque tanta roba è comunque tanta roba quindi se mettiamo assieme questo effetto questo effetto l'effetto del mercato sul mercato lavoro delle donne che abbiamo visto la partecipazione è rimasta ancora basso addirittura tende a diminuire perché gli asili o comunque le scuole non sono ancora aperte come dovrebbero e quindi non riescono a tornare sul mercato del lavoro eccetera 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 c'è una vera e propria scarsità di lavoratori abbastanza evidente si fa fatica a trovare questo credo che sia la stabella che volevi michele questo era quali sono i settori che stanno trainando l'inflazione quali sono quelli che non stanno trainando l'inflazione attenzione bene a questa parte qui perché questa parte qui è il 40 per cento dell'indice in core CPI è molto più bassa in core PC ma è molto alta in core CPI la parte che può salvare la fed è questa perché questa parte qui che vale il 16 per cento circa in CPI space vale invece il 25 per cento un quarto dell'indice secco nella parte di PCI e il congresso americano sta discutendo delle riforme sia dal lato dei servizi sia dal lato dei beni per il taglio dei prezzi dei beni del prescription drugs quindi dei farmaci con con ricetta che potrebbe quasi del tutto valere l'incremento dell'inflazione dovuta al settore abitativo vediamo come andrà a finire però al momento diciamo questa tabella che mi ha fatto vedere la volta scorsa rimane più o meno la stessa io avevo detto che faccio questa mia previsione che è rimasta la stessa dalla volta scorsa cioè le cose andranno peggio prima di andare meglio l'inflazione core dovrebbe rimanere elevata avevo scritto 4 e 2 in realtà siamo già oggi al 4 e 1 fino a metà del 2022 quindi probabilmente questo è una stima al ribasso e andremo probabilmente oltre credo addirittura 4 e mezzo per cento prima di decelerare nella seconda metà del 2022 certo è che se mi avessero detto che potevamo avere una un'inflazione core al pc al 4 e mezzo per cento mi sarei messo a ridere fino a un anno e mezzo fa ok allora è l'area euro questo è diciamo il quadro nel negli stati uniti l'area euro e io quello scritto problema infrazione punto interrogativo perché perché questo è non l'avevo parlato la volta scorsa però è interessante farlo secondo me questo è un grafico che fa vedere l'inflazione core quindi sempre al netto del dell'energia e dei beni alimentari per l'area euro che è la linea azzurrina o verdina ok ed è questo il numero di cui tutti parlano perché vedete che c'è stata un'accelerazione nei ultimi mesi ed è andata sopra il target al 2 per cento è un numero però che è fortemente distorto da diversi effetti il primo più grande forse dei quali è il fatto che la germania ha reintrodotto l'iva e quindi se guardiamo a esattamente gli stessi dati però al netto delle tasse quindi al netto del contributo delle tasse che generalmente ovviamente non vengono prese in considerazione ovvero la linea blu scura vedete che generalmente si muovono assieme di pochissimi decimali ok però in questo caso non si sono mosse assieme non si sono mosse assieme perché l'anno scorso l'hanno tagliata l'iva e vedete qual è stato l'anno rimesse quindi siamo però la differenza tra le due è praticamente sette decimi ok quindi punto primo non è vero che siamo sopra target e non è neanche vero che nell'area euro c'è stata tutta questa accelerazione è stata questa accelerazione perché ci sono degli effetti base di come viene calcolato e perché c'è un effetto distorsivo dalle tasse ok e infatti questo secondo me è il grafico vero su cui dobbiamo discutere Michele questo grafico vero su cui dobbiamo discutere se si guarda diciamo se si stende un po di più l'orizzonte temporale e si guarda l'andamento dell'inflazione nell'area euro che è la linea blu e negli stati uniti che è la linea rossa non l'ho plottata come si fa generalmente con un'inflazione annuale perché sennò poi avrei avuto esattamente lo stesso problema che avevo qui di avere dati distorti per l'area euro ma l'ho calcolato come two year change ok tra l'altro faccio presente che oggi panetta a panetta dall'acb del bordo dell'acb ha avuto lasciato uno speech pubblico nel quale ha messo esattamente questo stesso grafico che ho fatto vedere quindi ai claim paternity in qualche modo e potete vedere comunque che diciamo si tendono a muoversi più o meno assieme per varie ragioni questi due queste due linee più o meno ovviamente hanno un livello molto diverso che rispecchia la dinamicità per esempio dell'economia americana e il fatto che l'economia europea non è così dinamica ma soprattutto se guardiamo quello che è successo in mesi recenti vediamo un'esplosione dell'inflazione in america e niente nulla ok siamo ancora oggi vicino all'uno per cento per quanto riguarda l'area euro ora perché questo interessante anche perché se parliamo di controfattuale come sarebbero andate le cose se allora entrambe le aree gli stati uniti e l'area euro entrambe hanno avuto shock di offerta negativi simili anzi addirittura forse maggiori in in europa entrambe hanno avuto sei sei no 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 ma sono d'accordo questo infatti è una delle cose stavo pensando che nei giorni scorsi la cosa americana sembra sempre di più tirata dai soldi che trump e bai ha buttato via intanto però devo anche dire che come avevo sospettato cose che siano records non so se avete visto i da hai visto avete visto i dati dei jobless claims bassissimi bassi dal dal 69 se non ricordo male sì sì esatto cioè ma del resto gli openings ci sono ci sono ancora oggi 10 milioni di openings quindi non è non è un problema di non avere di avere un'economia che non ha creato posti di lavoro e scusa finisco il discorso su questo grafico per chi diciamo fa è a casa e ci ascolta tutte e due le aree hanno avuto shock negativi di offerta tutte e due le aree hanno avuto shock positivi monetari ok tutte e due le aree hanno avuto shock internazionale dei prezzi delle commodities di questa roba qui però solo una delle due ha avuto uno shock fiscale come l'ha avuto gli stati uniti ok e quindi ricollegandoci ai grafici che facevo vedere prima ecco perché erano così importanti dove sono andati a finire quel quel quelli stimoli fiscali quei checks sono andati a finire tutti dove potevano andare a finire in quel momento e o nei savings ok quindi non sono stati spesi quindi abbiamo ancora oggi accumulato una parte enorme di liquidità sui conti correnti oppure sono andati a finire nell'acquisto di beni in particolar modo di bene durevoli e hanno trainato in la sua inflazione molto ok secondo me il controfattuale è piuttosto chiaro non so cosa ne pensate voi ditemi se siete in disaccordo però secondo me è abbastanza evidente sì sì ok è difficile dar torto qua l'effetto della politica fiscale si vede oddio si vedrà sempre di più nel prossimo anno perché tuttora loro stanno pompando molto più denaro di quanto sì specialmente dopo il fatto che è riuscito a provare sta roba diciamo è su un orizzonte temporale lungo per fortuna perché se fosse concentrato allora probabilmente avremmo effetti abbastanza devastanti di inflazione però detto questo ci sono ancora accumulati una buona parte o comunque una parte di di dello stimolo che non è stata spesa punto primo punto secondo c'è e ci sarà una parte di upper pressure cioè di pressione al rialzo che verrà da chi troverà un lavoro perché oggi comunque ci sono molti che non sono occupati e che prima o poi torneranno al lavoro e questo tipicamente siccome iniziano a guadagnare e hanno più potere di spesa porrà una pressione al rialzo ancora maggiore ora quindi secondo me questo è molto importante ed è molto importante anche avere capito che cosa sta estrenando l'inflazione perché la risposta di politica monetaria e possibilmente non so anche di politica fiscale secondo me a questo punto dopo che sono arrivati gli ultimi dati dopo che ci abbiamo ripensato dopo che abbiamo fatto l'analisi e forse dovrebbe essere un pochino diversa rispetto a quella che stiamo a cui stiamo assistendo perché questa non è un'economia che ha problemi a creare posti di lavoro possiamo discutere anche sul fatto che poi avere un'economia super hot in questo momento probabilmente incentiva agli investimenti forse può avere un ritorno di produttività più in là più avanti del medio termine eccetera 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 però questa è un'economia comunque che ha 10 milioni di openings 8 milioni di disoccupati è un'economia che ha un tasso di situazione molto elevato e un'economia che non sono riuscito a capire nei mesi passati chi parlava di stagflation perché la parte questa non è non ha nulla a che fare con stagflazione questa è un'economia che è in booming vai io avevo parlato di stagflation ah scusa lo avevo percepito come un rischio devo dire francamente che io continuo a percepirlo come un rischio c'avevo in più in mente l'Europa degli Stati Uniti e anzi l'Italia nello specifico io lo percepisco come rischio ancora nel senso che vedremo come va a finire con la svolta dell'anno non vedo la grande i numeri di crescita europei non so se mi sbaglio ditemi voi i numeri di crescita europei oggi mi sembrano di altra roba rispetto a quelli americani non c'è dubbio sì e non so se avete visto ma oggi sono stati rivisti ci hanno pubblicato il gdi americano del terzo quarter fortissimo quindi il terzo quarter negli Stati Uniti non è vero che non è stato che è stato slowing down ok perché la parte di gdp aveva fatto 2 per cento ok però la parte di gdi ha fatto il più 6 7 e la media dei due fa 4 e 4 che è quello che la fed chiama gdo quindi un quarter al terzo quarter ancora economia americana 4 e 4 per cento annualizzato ok cioè è un'economia che sta funzionando in modo disfunzionale perché come vi ho fatto vedere prima ancora ci sono settori che funzionano in modo diverso molto diverso tra di loro perché hanno problemi e problemi molto diversi però la domanda di per sé c'è è molto forte e ancora oggi tende a concentrarsi dove può concentrarsi allora in una condizione di questo genere avendo già l'inflazione che è oltre il 4 per cento io vi chiedo è giustificato avere una politica monetaria ultra dovish ultra accomodante quando tra l'altro per l'appunto la politica fiscale come abbiamo visto ha già avuto un effetto piuttosto chiaro nei dati e poi adesso li mettiamo sopra un altro carico molto forte credo che in questo terzetto qui in questo terzetto qui la differenza di opinioni nel duetto che sta sotto di te prima di coinvolgerti era quanto durerà lucio era convinto che durasse io ero convinto devo dire lo sono ancora che diventerà obbligatorio frenare e che frenerà non è che adesso capiamoci quanto durerà vorrei lasciare un po la parola a lucio perché sta parlando poco allora la mia sintesi ai numeri che mostrate che mostri che ci sono sono preoccupanti la tendenza di questa amministrazione americana di continuare a giocare col fuoco mi preoccupa parecchio il ministro tesoro nuovo tedesco molto meno anzi mi rallegro dovrebbe preoccupare qualcun altro non me punto se questi continuano a far cazzate non c'è dubbio la parola a lucio però che l'ha sempre vista più negativa di me no allora io insomma sono ovviamente concentrato più sull'area euro e sull'area euro ti dico che ancora sto vedendo una certa vischiosità è dovuta anche al fatto che insomma i numeri sono diversi come ci ha dimostrato riccardo quindi forse c'è anche meno allarme però ed è giusto che sia così però io vedo sempre dei vincoli molto forti a cambiare la decisione politica monetaria dovuti un po al trauma di trisce famoso nel 2007 quando sbagliò la politica monetaria in maniera clamorosa con la crisi su prime quindi hanno una paura terribile di sbagliare in maniera restrittiva mentre non hanno paura di sbagliare in maniera espansiva ok quindi questo lo vedo lo vedo come una come una una specie di istinto basico anche se vuoi razionalmente infatti vedi vedi da questo grafico perché non hanno paura di sbagliare eh no no ma infatti ciao ciao ragazzi e ehm ho visto che poi sul piano politico non di politica monetaria politico si stanno già preparando allo scontro e non so se avete sentito parlare del patto del Quirinale che è la novità di questi ultimi due giorni no 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 raccontaci tu che tu che sai che cazzo c'è il alla firma il patto del Quirinale che è un accordo di co-branding tra Repubblica Italiana e Repubblica Francese cioè sostanzialmente i decotti dell'area euro che si mettono insieme e tentano di fare pacchetto di mischia contro eh cioè contro perlomeno in 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 previsione di un irrigidimento della politica monetaria e fiscale del prossimo anno secondo me il sottotesto è questo qui ok cioè dopo due tre anni di freddezza glaciale nella politica estera nei confronti della Francia dovuta ai problemi libici a un sacco di problemi all'immigrazione insomma Draghi è riuscito a mettersi d'accordo con Macron Macron è stato gentile dai vi facciamo facciamo toccare palla in Libia si stanno si stanno mettendo d'accordo secondo me per fare pacchetto di mischia e resistere a quello che ragionevolmente ci si può attendere se la dinamica inflattiva dovesse proseguire dovesse arrivare a superare a superare i target no quindi per tornare a noi eh situazione non ancora allarmante motivazioni in Europa per non allarmarsi sulla base dei dati quantitativi però non c'è secondo me non ci sarà la minima capacità reattiva se questa situazione dovesse cambiare in Europa cioè io pronostico questo sì no è sempre stata la mia grande ragione posso darti ragione però secondo me noi siamo lontani anni da quello scenario cioè non è una questione di mesi qua qui è una questione di anni perché dopo aver passato praticamente 15 anni con un'inflazione e un continente fondamentalmente depresso questa secondo me non è una situazione che cambia nel giro di tre mesi o sei possiamo arrivarci questo lasciate che dica è la chiave allora io devo dire sto perdendo molta fiducia continuo a capire sempre meno l'operato di Mario Draghi e dei suoi collaboratori che ormai è sì devo ammettere che non li capisco proprio non è che li critico non li capisco non capisco più i trade off le logiche gli obiettivi a meno che loro non abbiano delle informazioni segrete che io non ho tutto si concentra su PNRR ora correggetemi se sbaglio il puro impatto di spesa di PNRR fa ridere i pollastri o no no ma la valenza del PNRR non è l'entità dell'intervento ma il fatto che andiamo per ordine andiamo per ordine perché voglio capire l'entità dell'intervento è quella che è è quella che è poca roba e noi siamo i maggiori beneficiari perché nel resto d'Europa va a scalare cioè la Spagna dopo poi via via insomma in Germania il PNRR è praticamente una spruzzata d'acqua in termini di spesa puro puro atteggiamento moltiplicativo impatto su domanda sì o no sì sì è un'entità ridicola per la loro economia quindi insomma in termini di riforme strutturali a sto punto dovrebbe essere venuto quasi tutto non so cosa manchi manca qualcosa di sostanziale che dovrebbe accadere nei prossimi quattro mesi sei mesi in Italia dici o anywhere in Europe if you like in Italia non è stato fatto niente in Italia non è stato fatto niente come no hanno detto che hanno fatto già erano 52 ma ha spiegato l'altro giorno che ero a Roma qua mi hanno detto abbiamo fatto 36 non mi ricordo il grosso il grosso è fatto check mark check mark non me ne sono accorto ma magari sei vecchio e insensibile non tanto vecchio e insensibile come me ma quasi sei sulla buona strada non ti sei accordo ci sono stati cambiamenti strutturali profondi allora no tutto questo per dare un po sostanza perché sono d'accordo profondamente con quello che ha detto Riccardo lo volevo semplicemente articolare fra otto mesi che cazzo cambia alle condizioni strutturali dell'economia italiana over and above i 12 miliardi extra da spendere sul punto di Messina assolutamente niente poco poco guarda ti faccio vedere quello me la vedo io no no ma voglio dire quello che ho detto anche io quinto figurati se non ti do ragione concordo appieno c'è un unico red flag o yellow flag che adesso ti faccio vedere per quanto riguarda l'italia e se proseguendo con la con la presentazione perché andiamo avanti poi diciamo questo grafico semplicemente che fa vedere qual è la parte common quindi usando lo stesso modello che utilizzo io per la re euro e nonostante tutto qui per dire semplicemente che la parte di fondo quella al netto del covid al netto di tutti gli shock per la re euro rimane ancora oggi intorno a poco più dell'uno per cento quindi tutto questo conferma ripeto secondo me strutturalmente l'area euro è molto diversa ancora oggi dall'economia americana non ci possiamo fare nulla e ci vorranno anni ma sarebbe curioso scusami l'altra informazione come all'interno dell'area euro se ci sono di varie poi guardiamo sì guardiamo guardiamo non ce l'ho però guardiamo l'italia dopo ti faccio vedere quindi per per sottrazione non è molto diverso ok l'altra differenza come potete vedere qua è strutturale qualche modo tra gli stati uniti e l'area euro è che il mercato del lavoro durante il covid si è comportato in maniera molto diversa nei due nei due continenti fondamentalmente perché abbiamo voluto che si comportassimo in maniera diversa da un lato e dall'altro cioè abbiamo messo in atto politiche che l'hanno portato a comportarsi in maniera diversa questa è la curva di beverage per per chi per chi ci ascolta visto che facciamo informazione spieghiamo un secondo che cos'è perché è molto importante credo questa è una curva che c'è un grafico che fa vedere la correlazione tra il tasso di disoccupazione che sulla linea in orizzontali e il job openings quindi quanti lavori ci sono rispetto alle forze di lavoro in verticale ok ogni punto è un'osservazione ed è un mese la parte in grigio riguarda in entrambi i grafici la parte pre great great recession quindi qui siamo negli anni 2005 2006 2007 2008 poi abbiamo il 2009 che è l'area rossa la parte di grande recessione poi abbiamo i quadratini blu che sono la parte post great recession fino al covid quindi diciamo dal 2010 al 2020 e poi abbiamo la parte del covid che è la parte viola ok che cosa bisognerebbe notare qua beh bisognerebbe notare che negli stati uniti qui c'è stato tutto il grande dibattito progressivamente nel corso del tempo soprattutto durante la grande recessione dopo la grande recessione la curva di beverage si è spostata a destra si era spostata a destra quindi vedete che la parte blu sta sopra la parte grigia la parte rossa ok non solo ma dopo il covid la parte dopo il covid la curva di veri si è spostata nuovamente a destra in maniera ancora più clamorosa rispetto alla grande recessione che cosa sta a significare uno spostamento a destra della curva di beverage beh tipicamente suggerisce quello che gli economisti chiamano il fatto che il natural rate cioè il tasso naturale si è spostato verso l'alto ovvero che per ogni rapporto di job openings cioè per ogni diciamo lavoro offerto esistono meno disoccupati rispetto a prima tutto lo spostamento a destra della della curva di beverage tende per sua natura a siccome ci sono meno lavoratori disponibili sul mercato del lavoro ok per ogni job openings quindi per ogni lavoro offerto c'è meno forza lavoro tende a produrre diciamo pressione al rialzo ai prezzi perché perché tipicamente quanto meno diciamo questo dietro negli anni tendeva a far aumentare i salari e questo tendeva a far aumentare poi i prezzi ok se guardiamo però quello che sta succedendo in europa adesso qui ho utilizzato la germania e non solo non sta succedendo quello che è successo negli stati uniti ma addirittura se vogliamo ben vedere è successo esattamente il contrario cioè c'è uno spostamento a sinistra della curva di beverage non a destra ok quindi strutturalmente per diverse ragioni per esempio perché durante il covid da noi sono utilizzati i job retention scheme cioè non si è fatto perdere il lavoro alle persone più di quanto si è utilizzato negli Stati Uniti dove invece il tasso di disoccupazione ha aumentato moltissimo però strutturalmente i due mercati del lavoro a me sembrano funzionare in maniera decisamente diversa quindi anche le implicazioni che poi si hanno sul sul sui possibili effetti inflattivi sono sono molto diversi secondo me adesso spero di avere spiegato la curva di beverage in maniera decorosa e non da asino devo mettermi la maschera d'asino Michele. Comunque la devi smetta questa roba del professore e del giovane perché sennò io mi imparare. Se ho bisogno di fare le pulce a qualcuno se qualcuno fa le pulce a me capisce subito. Ok perfetto allora interrompetemi se dico cose che non hanno senso o che non sono esatte. Ok quindi molto diverso secondo me strutturalmente l'area euro dal dall'area del dollaro cioè dagli Stati Uniti. Ora guardiamo l'Italia. Allora questo è il grafico dell'inflazione in Italia eh la parte core del dell'Italia e e ho fatto vedere anche la parte energetica perché credo che molte delle famiglie. Invitare subito le persone quando vedete grafici a gente qui sembra che si muovono tanto. Leggete subito la scala. Scusate avrei dovuto mettere la scala. Sembra che vada su e giù ma in realtà la variazione totale è all'interno di 0.8. Esatto. Vedete che attorno ancora oggi all'1 per cento e si muove dallo 0.2, 0.1, 0.3 insomma ma è una cosa abbastanza irrilevante. Se guardate invece il grafico a destra questo in tutti i paesi ovviamente e le questioni energetiche sono molto legate tra paesi perché tutti hanno sono soggetti agli shock energetici e petroliferi invece vedete che oggi siamo intorno al 20 per cento. Ok. Da cui per esempio gli interventi del governo per tentare di calmerare una parte dell'incremento sulle bollette delle famiglie. Però quello che conta molto è questa parte qui e ancora oggi nonostante il covid ci siamo mossi ma ci siamo mossi di una parte che è semplicemente rilevante. Rimaniamo molto 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 bassi di inflazione core. Ok. Anche in Italia. Cioè abbia fatto quello che ha fatto l'area euro fondamentalmente. Ok. E me l'aspettavo diverso. Sì sì cioè non c'è poco niente e se guardiamo anche diciamo ad alcuni settori. Ok. Conta che tra l'altro ci sono anche alcuni effetti base di queste serie perché purtroppo i dati mensili dell'ICCP non sono pubblicati corretti per la stagionalità purtroppo da Eurostat. Però anche guardando le variazioni annuali tutto sommato come graph signal guardiamo e l'unica parte all'interno della parte core che ha dinamiche un po' più elevate rispetto a tutto il resto è la parte del ristorante degli alloggi che vedete qui che è un pochino più accelerata rispetto al resto e probabilmente questo è dovuto ai reopenings. Ok. Quindi questa è la parte dei reopening sectors per l'Italia. Però nulla al confronto con gli Stati Uniti al momento. Nulla. Cioè le dimensioni del del fenomeno sono completamente diverse. qui Michele è la yellow flag eh anche per te Lucio questa è la yellow flag per quanto riguarda l'Italia perché non abbiamo scarsità di lavoro solo negli Stati Uniti. Non abbiamo scarsità di driver solamente in UK. Ok. Abbiamo scarsità di lavoro pure nel paese del reddito di cittadinanza che secondo me eh anacronistico per dire per essere gentili perché quello che vedete qui eh se ne è parlato ho sentito qualcuno che ne parlava in televisione ad un certo punto non ricordo chi esattamente però negli ultimi mesi in Italia le imprese hanno iniziato a lamentare scarsità di lavoratori. Queste sono tre sarvi diverse in tre settori diversi. È per dire che sembra esserci scarsità di lavoratori across sectors e anche across diciamo eh skills. Quindi non è non è solamente bassi lavoratori lavoratori diciamo con basse skills ma anche in realtà a diversi livelli. e non solo c'è scarsità di forza lavoro ma eh i dati dei ehm quits eh come si chiamano dei 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 licenziamenti ci dicono che in realtà eh anche in Italia si sia osservato un po' quello che si è osservato negli Stati Uniti dove i quits come eh non l'ho fatto vedere perché diciamo che non c'era sulle slide però lo diciamo le persone hanno iniziato a lasciare il posto di lavoro molto di più rispetto al passato e hanno iniziato a farlo perché le dinamiche salariali sono eh più robuste che eh pre-covid soprattutto in alcuni settori se guardiamo per esempio al settore di leisure in hospitality quindi alle ristoranti e agli hotel eh agli alloggi negli Stati Uniti oggi siamo al più dieci per cento eh di di dinamiche salariali di incrementi salariali e quindi le persone hanno iniziato a capire che se si spostano da un lavoro all'altro se saltano da un lavoro all'altro ovviamente il loro salario aumenta perché dall'altra parte c'è qualcuno che tenta di eh accapararsi di attrarre lavoratori che non riesce a cercare sul mercato del lavoro questa roba qui in Italia abbiamo qualche segnale qua e là che tutto sommato sta succedendo ovviamente in in proporzioni completamente diverse ma completamente diverse perché perché le dinamiche salariali eh rimangono ancora molto contenute non ho fatto vedere parlare euro ma eh i negotiated wages quindi la parte diciamo negoziata dei salari è depressa e continua a essere depressa anche nel terzo quarter nel terzo trimestre del 2021 però per qualche ragione che non mi è chiara e credo che andrà investigata molto nei prossimi mesi vediamo che le persone abbandonano il posto di lavoro molto più di quanto facessero prima del covid questa great resignation negli Stati Uniti non è solo negli Stati Uniti c'è anche in Italia ripeto molto meno ma la vediamo anche in Italia e le imprese lamentano scarsità di lavoro di forza lavoro eh non solo negli Stati Uniti dove è evidentissimo ma addirittura anche in Italia quindi questo secondo me è eh ripeto sempre nel quadro di un'area euro che funziona in modo completamente diverso rispetto agli Stati Uniti dove i dati sono diversi dove i dati del mercato del lavoro come dicevo prima da vedere della beverage sono diversi però c'è qualche similarità qua e là questo sarà sufficiente ad avere dinamiche di inflazione elevate andando in avanti non lo so secondo me ripeto non è una questione di mesi è una questione che si genererà se si genererà nel corso di prossimi anni però qui dovete dirmi se siete d'accordo o meno io ti dico io ti dico che in molta parte ho finito il slide piccolo applauso io ti dico su questa roba io ho altre nel caso se volete parlare di altro ne ho messo sempre 40 no basta ti uccidiamo anche perché ricordatevi la regola ragazzi che abbiamo passato l'ora quindi adesso mettiamo peta togliamo ecco mettiamo i tre soggetti però devo dire una cosa Michele scusa la volta scorsa ci sono rimasto impressionato perché deve esserci stata un'autoselezione incredibile sul canale di Liberi Oltre perché ci sono state persone ma molte che ci hanno ascoltato per un'ora e mezza a parlare di inflazione ci sono alcune migliaia di persone che seguono questi video complicati ma noi siamo poco che facciamo l'inflazione c'è chi segue Simone e Lucio che si discettano di filosofia politica i quattro angoli dell'universo c'è chi segue Tecchioli che parla di o Mistarnini hanno oggi stavano lì discutendo facciamo un video sulla congettura di Riemann ahia la prova è la congettura di Riemann scusa io ci costruirei un modello sulla Great Resignation perché questo è un segnale evidente che se hanno questo tempo per guardarci e perché si stanno dimettendo tutti e se la verità potrebbe esserci dovremmo vedere se c'è una correlazione tra i nostri ascolti e la dinamica del mercato del lavoro perché secondo me potrebbe essere no 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 i dati te li ho sempre dati noi abbiamo sempre il 95% dei scoltori hanno meno di 40 anni ho detto un numero così posso andare a controllare sì sì giovanissima roba non c'è sì sì ma voglio dire ieri ho passato un'oretta e 23 minuti a raccontare i dettagli di quanto ridicola sia per sua stessa missione la lotta all'evasione in Italia che hanno preso in giro in termini di dati una chiacchiera allucinante io non me ne ho mica reso punto che fosse una presa in giro di questo livello ma è una presa in giro allucinante e c'erano 500 persone che ci ascoltavano alle 10 di sera e dopo che le quali sono arrivate altre 700 a ascoltarsi la pappardella già nel giro di 3 ore 4 ma va bene così ma lo facciamo per quello cioè va bene facciamo per essere ascoltati anche sì perché pensiamo sia utile quindi prego 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 andate no io per chiudere l'argomento prima di Riccardo torno sempre sul discorso degli ammortizzatori sociali perché in Italia è molto importante che c'è stata una riforma degli ammortizzatori post licenziamento diciamo negli anni di Renzi 2015 quindi 14-15 quegli anni lì che ha introdotto un ammortizzatore sociale si chiama Naspi che è molto lungo e non è molto lontano dal minimo salariale ok quindi io cioè questa dinamica diciamo di scelta del lavoratore dopo un anno e mezzo di anestesia forzata specialmente in alcuni settori dove tu sei stato a casa un anno e mezzo quindi hai ridotto i tuoi consumi hai ridotto il tuo stile di vita a livelli essenziali quindi hai un bisogno di denaro hai percepito di avere un bisogno di denaro molto inferiore rispetto a quanto pensavi prima ok ed è una cifra molto vicina al minimo vitale che gli ammortizzatori sociali post licenziamento ti riconosco cioè non c'è una gran differenza ok avete presente che l'assegno Naspi medio tra diciamo almeno per i primi sei mesi di lavoro di disoccupazione è intorno ai 1000 euro ok diciamo parlando diciamo dei redditi ovviamente bassi ma non è che lo stipendio di un operaio sia molto differente ok però non vai a lavorare no no certo però non vai a lavorare l'incentivo non è molto elevato chiaramente no ma poi ti sei abituato a stare a casa un anno e mezzo cioè questa cosa qui io non so quando sarà modellizzata anche da un punto di vista psicologico probabilmente ci vorranno 10 anni però comunque io ecco per la serie io faccio io sono quello che dà il contributo dell'uomo della strada aneddotico che fa incazzare Michele dopo che tu hai fatto tutto sto lavoro con i modelli le misurazioni arrivo io e ti dico l'aneddoto perché l'aneddoto personalmente dopo un anno e mezzo di blocco lo dico sul mio caso personale io prima viaggiavo mediamente due o tre giorni a settimana sempre prima del covid no ma oggi faccio una fatica bestiale a fare un giorno di viaggio a settimana no no ma guarda che secondo me cioè quello che stai dicendo è tutt'altro che se mi dissero dei soldi per stare a casa io non credo che viaggerei cioè almeno me li dobbiamo no ma infatti ma infatti secondo me cioè sul mercato del lavoro sono avvenuti dei cambiamenti ben oltre i dati che noi vediamo ti faccio un esempio io oggi lavoro dove voglio quando voglio e se mi venisse detto venisse offerto di mettermi di fare un'ora e mezzo di strada di treno o di macchina ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro anche no e che quello è l'unica soluzione che lo devo fare cinque giorni alla settimana non se ne parla non se ne parla semplicemente perché durante il covid dove abbiamo dimostrato che si può anche raggiungere un equilibrio diverso allora una parte dei lavoratori non è tornata perché tenta di fare questo lavoro perché tenta invece di negoziare condizioni diverse non lo so può essere magari le imprese non si sono ancora adattate a modelli di organizzazione che consentono alle persone di essere più esatto poi ci sono ci sono aneddoti non so quanto sia grosso quantitativamente questo per gli Stati Uniti si dice che le bolle dei bolle insomma che gli andamenti dei mercati azionari e in particolar modo per la verità non del mercato azionario ma dei mercati delle criptovalute abbia tolto alcuni lavoratori dal mercato del lavoro semplicemente perché uno magari ha guadagnato senza diventare miliardario però abbia guadagnato magari 100.000 dollari e li deve fare fuori prima tutti i 100.000 prima di tornare sul mercato del lavoro non so quanto sul totale dei lavoratori americani non so quanto questo possa valere ma però secondo me impatta al netto di tutto in misura che non so misurare impatta veramente il fatto che è molto meno valorizzata oggi la socialità del lavoro diciamo quella tradizionale no e quindi alla fine c'è quella roba lì ha perso valore no il fatto di 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 sì quantomeno ne ha acquisito acquisito valore altro per esempio ha acquisito valore il tempo libero o la gestione del tempo in maniera molto diversa esatto e poi la sfortuna obiettiva che il reddito di cittadinanza è stato introdotto proprio contestualmente al covid quasi contestualmente al covid questa è una sfortuna specifica del nostro paese che magari se lo avessero introdotto dieci anni prima però si può cambiare cioè Draghi da questo punto di vista secondo me avrebbe avuto l'opportunità per poterlo cambiare guarda dicono che ci fosse l'undicesimo comandamento che è stato cancellato per sbaglio che dice che la spesa pubblica cresce soltanto c'è proprio una dinamica in spiega non si può ridurre ha scritto molto chiaramente Max Weber può solo crescere capito ma anche spiegato perché si la spiega pubblica la spesa pubblica può solo crescere fatta eccezione per le guerre grazie a Dio è calata un po' si arriva una bomba atomica può darsi che si riduca per un breve a causa dell'imperante neoliberismo pro mercato non lo toglieranno se oggi togliessi il regno di cittadinanza altro che Green Pass cioè qua manifestano per non farsi la puntura gli levi il grano questo ti mettono la bomba per quanto riguarda tagliamo la testa per quanto riguarda l'area aero continuo a capire la politica monetaria della BCE perché secondo me i dati indicano il fatto che non c'è un problema di inflazione al momento e che non ci sarà neanche a medio termine medio termine per me sono nei prossimi due o tre anni al momento cioè ovviamente baso questa considerazione sul set informativo che ho oggi e sui dati che ci sono oggi poi come al solito per chi fa policy o per chi è in questo business if the evidence changes this I change my mind quindi ovviamente se i dati cambiano cambio anche la media siamo tutti di quello stile esatto per quanto riguarda invece gli Stati Uniti il discorso è molto diverso ed è molto diverso perché secondo me in buona fede si è fatto uno stimolo un combinato di stimolo fiscale monetario che è stato esagerato o quantomeno non si sono valutati esalte quali sarebbero stati gli effetti sui prezzi dobbiamo imparare dai nostri errori abbiamo imparato credo qualche cosa ovviamente dagli errori fatti dopo la grande recessione e dobbiamo imparare dai nostri errori fatti nel 2020 e 2021 secondo me per l'appunto la composizione dello stimolo fiscale e il size dello stimolo fiscale ne dovremo parlare andando in avanti perché quello che abbiamo fatto ripeto secondo me i dati sono talmente chiari stavolta che l'identificazione è talmente chiara anche in questo caso che però ti trovi un governo ti trovi un governo democratico che deve tagliare la spesa questo è complicato no ma infatti non solo non l'ha tagliata ti ha messo sopra un caldo dovresti farlo fare questa malazione ma questo questo non è che non ha tagliato la spesa ha aggiunto delle 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 carte da dei carichi uno dietro l'altro punto sì quindi però guardate la politica che può rispondere non credo posso dire siccome qui conta la politica che Biden a me sembra francamente andato la Harris è inesistente si è rivelata perfettamente irrilevante a livello di politica nazionale ha contato zero in campagna elettorale sta contando zero dopo un anno che sono lì come se non ci fossi quando ha aperto bocca ha fatto gaff ormai il giochetto è tutto in mano una dinamica che obiettivamente vede la sinistra del partito democratico che è fondamentalmente socialistoide a carry the day c'è stato per fortuna un pareggio su Powell l'unica cosa che hanno tenuto ha messo ce l'avevamo beccato ce l'avevamo beccato scusa su questo non so se ricordi ma avevamo fatto una previsione su chi sarebbe stato e avevo detto secondo me la mia speranza e la mia previsione che sarà Powell ma i democratici chiederanno la vicepresidenza per la Brainerd anche voglio dire adesso mettere la Brainerd lì sarebbe stato veramente un rischio grosso con la situazione che si è venuta a creare però è stato l'unico pareggio quindi a mio avviso continueremo purtroppo su questa situazione per i prossimi dieci mesi poi arriverà metterlo ma è un terreno politico e c'è un'unica cosa che può fermare questo terreno politico una botta selvaggia fra un anno poco meno di un anno undici mesi cioè metterlo se si perdono il congresso si è finito ma io credo che sarà molto difficile che i democratici tengano il congresso bisogna che lo perdano in maniera sostanziale se lo perdono in maniera sostanziale sul messaggio di basta buttare via soldi in follie allora ci sarà anche un cambiamento nella tendenza di spesa e cambierà anche Biden non tanto perché lui speri di essere rieletto secondo me non lo spera ma perché ovviamente dall'interno del PD diranno vabbè qualche carta bisogna giocarcela nel 24 e che cazzo c'è evitiamo di sì secondo me guarda tu hai esatto la parola follie una parte ricordiamoci dove dove eravamo no allora da marzo 2020 si staccavano le stelle dal cielo qualche cosa probabilmente andava fatto ma la parte di stimolo del 2021 quella è rimasta abbastanza incomprensibile e probabilmente anche la composizione dell'ultimo tranche di stimolo è anche soggetta può essere soggetta a critiche quindi sì però ripeto impariamo dai nostri errori se ce la facciamo visto che dovremmo essere sai non so perché ti stai come dire assumendo loro noi sì scusa cazzo c'entra luce c'entriamo dai loro imparino dai loro no ma intendo dire nella professione nella professione cioè allora dovremmo probabilmente anche ragionare su quali sono stati gli stimoli fiscali che hanno funzionato e quelli che sono stati disastrosi questo lo facciamo in un'altra puntata ti prepari tu perché io sono l'opinione che nessun ti stimola io sono uno che ha firmato contro quello di Obama del 2009 cioè I stand by my position I did right l'ultimo stimolo fiscale che ha funzionato la seconda guerra mondiale oddio l'obiettivamente è uno stimolo fiscale anche uno stimolo di strizza e di tante altre cose è uno stimolo stimolo è stato stimolo è stato avevo anche una componente fiscale no io davvero non faccio molta fatica funzionato nel senso letterale alcuni non hanno fatto particolare danno per carità tu perché tu secondo me come stimolo fiscale hai in mente soprattutto un incremento di g però lo puoi vedere anche come una diminuzione di t sì sì ma neanche quelli io non ho mai neanche sposato sono vabbè ma questa è un'altra discussione davvero dobbiamo farla perché altrimenti perdiamo questa potrebbe essere una discussione interessante a fare noi tre e visto che c'era anche Francesco Lippi che avrebbe voluto accodarsi brutta parola come dire aggiungersi magari una volta vediamo anche lui cosa ne pensa ma lo facciamo noi tre alla prossima incontro fra qualche settimana anzi sarebbe un buon topic per io sono dell'opinione l'ho anche sempre detto lo so per una delle tante ragioni perché sono in viso ai libertari ideologici secondo me Ronald Reagan è stato un bluff c'è stato nessun luffer curve niente c'entra un cazzo c'entra assolutamente niente mi dispiace ma io la vedo così no io secondo me è storia è storia sì a me sembra che la storia i fatti dicano questo da parte fiscale della politica Reaganiana sia chiaro era l'opinione di Murray Weidenbaum che fu il suo primo chief economist chief del council Murray non riteneva che ci sia stata questa cosa miracolosa dal taglio a parte del taglio che servono ma non nella forma di multiplier adesso capiamoci Boldini non sta dicendo mettete le tasse dove cazzo volete mettete la spesa dove cazzo volete è tutto uguale sto dicendo i meccanismi di spostamento orizzontale in su e in giù no TG non fanno grandissima differenza certo se hai un carico fiscale al 60% e passi al 30% cambia però la composizione come hai detto prima la composizione delle due cose che cambiano dipende chi tassi come tassi perché come spendi chi spendi dove spendi sì esatto esatto però cioè nel momento in cui si è messo in campo uno stimolo fiscale del size che hanno avuto nel 2020 e poi nel 2021 ripeto la volta prossima quantomeno se ci sarà una nuova amministrazione che dovesse decidere di fare una cosa simile perlomeno magari non avremo gli stessi effetti funesti di inflazione tutto qua ciò vedremo a me non lo so non so cosa pensa Lucia a me la cosa l'errore peggiore fatto negli Stati Uniti oltre all'enorme pompaggio credo sia stato questa super questi assegni mandati a Vanvera tra l'altro è arrivato anche a me ho tentato di ridarlo indietro ma io ho pagato le tasse ancora l'anno prima negli Stati Uniti mi hanno detto che dovevo prenderlo a me no purtroppo no non purtroppo però a me no purtroppo insomma io mi ritenevo cioè che cazzo se favo le tasse mi mandano 3000 euro io lo tenevo anche a me che non mai pagano le tasse guarda se mi mandano per caso 3000 dollari a parte che ho una goccia me lo tengo figlia al buono per una volta per una volta tocca anche a me me lo sono tenuto una volta nella vita hai fatto benissimo una volta nella vita ok ragazzi quindi io allora fra qualche settimana ci vediamo il tema è dove saremo tra stimola stimolus stimola stimoli 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 mi ricordo che cazzo fa declinazione stimolo stimolo ci vuole in latino ci vuole qualche stimola stimoli credo però sì sì ho approvato approvato come quando quella microdome è la prima volta che voi sapete che l'emmas no l'emma i meccani dicono l'emmas nel primo articolo scritto con Aldo Rustichini Aldo dice non mettiamola in mata Aldo dai oh mi riferì qual'è questo word era giovani un po' birichini va bene allora ci vediamo presto insomma grazie grazie ciao 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 ciao